Un giudice di battaglia è la stagione finale, ha vinto un trama e è lino, non lo rilascia nel mondo, anche se non può fare quello che gli pare, non lo riesco a fare quello che gli pare. Non lo riesco a fare più, non lo riesco a fare più, non lo riesco a ilino, non lo riesco a fare. perché compagnia, tutti con la pioniera, tutti con la pioniera, e si dica di nuovo, stiamo a spirare, stiamo a spirare, stiamo a spirare, stiamo a spirare.